Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti al commento della partita di ieri sera tra Roma e Milan nel secondo big match di giornata insieme alla partita che questa giornata l'ha aperta, cioè Atalanta-Lazio è una partita che io mi aspettavo potesse essere un po' a senso unico, cioè vedevo strafavorito il Milan detto proprio sinceramente e secondo me l'andamento dei 90 minuti ha certificato questa superiorità del Milan nonostante poi la vittoria sia arrivata a seguito di alcuni episodi arbitrali piuttosto discutibili anzi molto discutibili ma che vi andrò a dire successivamente Roma che si è svegliata soltanto nell'ultimo quarto d'ora a seguito dell'espulsione di Teo Hernandez c'è stata una scossa della Roma più di carattere che di testa ha creato i presupposti per il gol che ha trovato solamente al novantesimo con il Sharawi e poi c'è stato l'episodio del possibile rigore di Kier su Pellegrini comunque vi ripeto, gli episodi arbitrali li valuto dopo io penso che la partita di ieri abbia dimostrato che la differenza tra le due squadre è ampia ma non è solo la partita di ieri che lo dimostra, è tutto il campionato che dimostra che il Milan è di un'altra categoria ma parecchio più avanti alla Roma perché comunque il Milan è da inizio anno che deve avere a che fare con tante mancanze c'è stato alcune partite dove mancavano anche 5-6-7 titolari e nonostante questo il Milan comunque le partite le impone in un certo modo poi fortunato magari contro il Verona fortunato negli episodi arbitrali contro il Bologna tutto quello che volete comunque è una squadra che non ha mai realmente sofferto l'avversario che ha imposto una superiorità a tratti imbarazzante contro tante squadre nonostante avesse a che fare con molte assenze anche di giocatori fondamentali Roma che invece continua a schierare sempre i soliti 11 manca Spinazzola che sarebbe ovviamente il titolare sulla sinistra ma gli altri sono i titolari fissi Mourinho anche nelle dichiarazioni confessa che evidentemente i panchinari fanno schifo io penso che l'eliminazione dei vari di Avara, Kumbulla, Borca Maiorale eccetera sia stata una paraculata dopo la bruttissima figura contro il Bodo Glimter cioè lì Mourinho ha fatto forse la peggior figura della sua carriera e Peppa Rassiculo ha dato la colpa a 5 giocatori e l'ha buttato fuori Rosa secondo me è andata così perché se è vero che Borca Maiorale non è questo fulmine di guerra se è vero che Kumbulla da quando è arrivato alla Roma non è che abbia fatto vedere niente di che anzi cioè proprio il Kumbulla di Verona è proprio un lontano ricordo se è vero che Diavara è un giocatore molto limitato tutto quello che volete però di via buttare fuori Rosa a 5 giocatori mi sembra eccessivo poi inutile che uno si lamenti che la Rosa è corta che poi la Rosa della Roma non sia attrezzata secondo me per poter competere per i primi 4 posizioni e questo sono d'accordo cioè secondo me la Roma per quello che ha a disposizione non è da prime 4 posizioni e quindi se la Roma arriva sesta non è che Mourinho è scarso e il valore della squadra è quello però gioca veramente male è una squadra che veramente gioca male che si vede che quando ha palla non sa cosa fare col pallone i giocatori anche più creativi, più tecnici Zaniolo, il Pellegrini, il Mkhitaryan in situazione quando hanno palla si vede che si guardano proprio sperduti che non sanno cosa fare col pallone è una brutta situazione soprattutto se consideri che la Roma difensivamente ha dei limiti piuttosto palesi ha dei limiti palesi perché? Perché lui Patrissio è uno dei portieri che ha fatto più parate nel nostro campionato parate anche difficili e providenziali e uno può anche dire ma è un giocatore da Roma, è il suo compito parare sì, però vuol dire che la difesa fa quella a tutte le parti e questa debolezza, questa fragilità della difesa erano altamente prevedibili secondo me perché se con Bulla non è più quello di Verona se Smalling oltre a che ha degli screzi con Mourinho è anche un giocatore fisicamente inaffidabile ti presenti costantemente con Mancini e Bagnez che sono due giocatori giovani I Bagnez è un giocatore giovane anche nel modo di giocare è un giocatore che alterna grandi giocate ha delle insicurezze, ha delle amnesie assurde Mancini è un giocatore secondo me tra i cinque giocatori più sopravvalutati nel nostro campionato un giocatore che a me non è mai piaciuto nemmeno ai tempi di Bergamo scarsissimo nelle marcature è molto sopravvalutato e quindi la coppia difensiva Mancini-Bagnez secondo me è molto fragile se in più ci metti che Spinazzola è assente Vigna è quello che è anche perché arriva da un campionato dall'altra parte del mondo quindi bisogna anche dargli il tempo di ambientarsi Karsdorp sta facendo benissimo ed è una piacevole sorpresa insomma la difesa è quello che è quindi io penso che che la Roma è normale che faccia fatica che il Milan è di un'altra categoria e in campo questa superiorità si è vista sia ieri nello scontro proprio diretto tra le due squadre che in queste prime undici partite dove il Milan ha dato tutte altre sensazioni rispetto alla Roma e per quanto riguarda il Milan Milan che secondo me ieri non ha fatto una delle sue migliori partite soprattutto a livello offensivo perché difensivamente è sempre il solito Milan solidissimo e a parte ripeto l'ultimo quarto d'ora però in attacco ha fatto veramente fatica anche qua ci sta perché mancava Brian Dias perché comunque non c'era Tonali titolare Tonali è un giocatore che ha fatto molto bene quest'anno fino ad ora e manca Rebic comunque il Leao di questo inizio di campionato è titolare secondo me Rebic è la riserva però Rebic è un'alternativa importante perché è un giocatore più potente e più orientato all'essere anche un falso nove rispetto a Leao Ibrahimovic è totalmente fuori forma lo si era già visto contro il Bologna secondo me lo ha riconfermato anche ieri sera sebbene poi sia stato decisivo però è stato decisivo sul calcio piazzato in campo si è visto veramente poco quindi secondo me questa squadra ha dimostrato ancora di essere forte sta attendendo il rientro di alcuni giocatori importanti ha tante possibilità ora è da vedere in Champions che cosa combina perché secondo me se il Milan esce completamente dalle coppe europee nel senso arriva quarto nel girone e quindi non si qualifica nemmeno per i sedicesimi di Europa League è una squadra che si può concentrare solo sul campionato diventa veramente la strafavorita per lo Scudetto secondo me se dovesse invece arrivare terza nel girone e qualificarsi in Europa League ci sono queste trasfette europee che potrebbero togliere energie e togliere anche i giocatori perché è una squadra che evidentemente a livello fisico è molto fragile perché si fanno male tutti a rotazione quindi vuol dire che la preparazione atletica è impostata così e quindi ci può stare che perda dei punti per strada però vittoria secondo me strameritata del Milan per quello che si è visto in campo ma che è stata macchiata in maniera indelebile da degli errori arbitrali veramente veramente gravi e ingiustificabili nell'era del VAR allora il rigore fischiato al Milan per intervento di Bagnez su Ibrahimović per me è un rigore da calcio femminile cioè non si può fischiare un rigore così soprattutto se in tutta la partita Maresca ha diretto la partita in maniera molto English cioè insomma i contrasti fisici anche abbastanza mascolini li ha lasciati correre quindi perché fischi un rigore così? è un rigore che tra l'altro ti chiamano al VAR perché hai fischiato una stronzata vai al VAR e decidi di confermare la scelta quindi è proprio una presa di posizione anche caratteriale che si può comprendere perché perché si può comprendere perché io penso che un arbitro non sono un arbitro io però penso che un arbitro non sia felice di essere chiamato al VAR perché vuol dire che non si è accorto di qualcosa vuol dire che ha sbagliato una valutazione quindi è una critica no? quando viene chiamato al VAR però lì insomma secondo me il rigore è veramente inventato non si può dare un rigore così però vuoi dare un rigore così? va benissimo poi però lo fischi anche alla Roma al 93esimo perché il contrasto di Chier su Pellegrini è più falloso di quello di Bagnac su Ibrahim cioè è più netto il rigore per la Roma rispetto a quello per il Milan poi per me ripeto non c'è nessuno di due per me nessuno di due è rigore però dato che te assegni il rigore al Milan per quella roba poi devi assegnarlo anche alla Roma per coerenza altrimenti sono due pesi due misure e non è corretto secondo me per quanto riguarda l'espulsione di Teo Hernandez allora se vado a vedere il fallo di Teo è palesemente da giallo e quindi essendo già ammonito è palesemente da rosso perché si sdraia impedendo a Pellegrini di proseguire la sua corsa quindi il fallo è netto è tattico è al limite dell'aria quindi è da giallo c'era un fallo precedente su Krunic sarò sincero non l'ho visto ma non perché secondo me non c'è fallo perché proprio non ho visto la situazione in diretta non ci ho fatto caso e non ho visto i replay quindi non lo so però qualora ci fosse stato il fallo su Krunic a inizio azione che poi ha portato all'espulsione di Teo Hernandez qua secondo me il vero problema è il protocollo VAR che è scritto da un cerebro leso perché mi spiegate perché il VAR può intervenire in caso di cartellino rosso sbagliato ma non di cartellino rosso derivato da doppia munizione sbagliata cioè se Teo Hernandez fosse stato ultimo uomo e Maresca avesse estratto direttamente il cartellino rosso lo avrebbero richiamato al VAR per fargli notare che l'azione era invalidata da un fallo precedente subito da Krunic e quindi non ci sarebbe stato il fallo di Teo Hernandez che avrebbe portato alla sua espulsione se invece Teo non è l'ultimo uomo e fa un fallo che gli provoca comunque l'espulsione ma per il secondo giallo allora il VAR non può intervenire siamo d'accordo che è una stronzata anche perché di secondi cartellini gialli dati ingiustamente che provocano un'espulsione secondo me ce n'è uno ogni 5 giornate perché già le espulsioni non sono tantissime in serie A quelle che ci sono spesso sono rossi diretti se sono rossi derivati da doppia munizione la maggior parte delle volte il secondo giallo è sacrosanto perché prima di buttare fuori un giocatore per il doppio giallo ci pensano due volte gli arbitri di solito quindi quante volte può succedere in una stagione intera in serie A che un secondo giallo è sbagliato e non è da buttare fuori il giocatore? io penso succederà massimo 10 volte in tutto il campionato ma massimo! allora per quelle 10 volte si può anche interrompere il gioco con il VAR e evitare che una partita venga condizionata in maniera anche pesante da un errore di questo tipo per come la vedo io quindi secondo me il protocollo sarebbe da riscrivere in questa situazione beh, chiusa la parentesi sugli episodi arbitrali andiamo alle pagelle delle due squadre mi prendo il telefono perché ce le ho scritte qua allora un attimo solo pagelle delle due squadre eccole qua cominciamo come al solito dalla dalla squadra di casa, dalla Roma allora Rui Patricio io a Rui Patricio ho dato 5,5 perché secondo me sul gol di Ibrahimovic è molto colpa sua Ibrahimovic tira da una posizione molto defilata sul suo palo senza nemmeno tirare angolato lì Rui Patricio fa il passo verso il secondo palo aspettandosi che Ibrahimovic faccia il tiro sopra la barriera e viene fregato da questo passo qua secondo me è un errore molto grave perché se Ibrahimovic da lì riesce a trovare la parabola sopra la barriera non la pari comunque cioè proprio è impossibile comunque Ibrahimovic è famoso per essere un calciatore che cerca più la potenza che la precisione quindi secondo me era prevedibile che tirasse sul primo palo quindi è un errore grave secondo me gli do 5,5 in difesa allora ho dato 6,5 ai due terzini perché secondo me hanno giocato benissimo sia Karsdorp che Vigna hanno giocato benissimo in fase difensiva ma anche in fase offensiva sono stati molto presenti entrambi Vigna mi ha sorpreso molto perché io pensavo soffrisse difensivamente invece ha retto ha fatto anche delle diagonali importanti quindi 6,5 a entrambi non mi è piaciuto per nulla Mancini che è stato sovrastato da Ibrahimovic e non ha secondo me fatto una partita da leader quale dovrebbe essere per chi indossa la fascia del capitano quindi secondo me ha fatto una cioè è il vice capitano scusate il capitano è pellegrino comunque il vice capitano è lui secondo me dovrebbe essere sicuramente il leader della difesa e invece non lo è mai quindi secondo me è un giocatore che andrebbe rivalutato l'ho detto anche prima per me è molto sopravvalutato anche ieri ha lasciato delle lacune dietro 5,5 per Mancini migliore in campo della Roma per me è stato Roger Ribagnez che procura il rigore sì però coerentemente con quel che ho detto prima che per me quello non è il rigore mai nella vita se non nel calcio femminile non l'ho penalizzato per questa cosa anzi secondo me ha fatto un grandissimo intervento su Ibrahimovic andando a chiudere un'occasione della gol clamorosa con un grande intervento è stato comunque molto attento difensivamente è stato sicuramente il migliore dei suoi di dietro quindi secondo me è stato il migliore in campo della Roma gli ho dato 7 meno male vere tu male cioè insufficiente secondo me vere tu che ha perso dei palloni cosa che lui di solito non fa e non ne ha recuperati molti io non penso che forse è un po' stanco che ci può anche stare comunque non è riuscito a dare la sua la sua classica partita di grande quantità quindi 5 e mezzo per il francese mi è piaciuto invece Cristante Cristante che in questo ruolo si sta ritrovando molto bene spesso quando ho visto la Roma Cristante ha giocato bene è stato ampiamente sufficiente anche ieri secondo me ha giocato bene sia in fase difensiva perché comunque l'esperienza da difensore centrale on Fonseca lo avrà plasmato sotto quel punto di vista però anche in fase di impostazione essendo stato trequartista con Gasperini lui ha giocato sia dietro le punte che da difensore centrale quindi sulla linea mediana si sta adeguando a giocare lì e ha le capacità sia per arretrare che per avanzare il giocatore se non è può diventare completo e far molto comodo alla Roma gli ho dato 6 più pacchettata di brutti voti invece al poker al poker d'attacco della Roma allora Mkhitaryan l'avete visto voi? io no 5 e Abraham peggiore in campo per me nettamente della Roma gli ho dato 5 meno sicuramente non sta bene fisicamente perché comunque si sa che non è al 100% però se queste sono le prestazioni che fornisce Abraham è meglio far giocare allora Shomurodo occhi per lui insomma Abraham è veramente inguardabile è veramente inguardabile sia anche secondo me un po' mezzo mangiato un gol su un cross dalla destra dove si è fatto rimpallare però vabbè lì non è colpa sua cioè il Milan è fenomenale nel proteggere la propria porta in questo modo però veramente ha sbagliato passaggi controlli dribbling è veramente veramente osceno 5 meno Abraham peggiare in campo non mi è piaciuto nemmeno Pellegrini che ha toccato tantissimi palloni come sempre però stavolta non è riuscito ad essere concreto quasi mai quindi ho dato 5 e mezzo a Pellegrini e 6 invece a Zaniolo che è stato sicuramente il migliore dei suoi ha fatto una lotta bestiale con Teo Hernandez su quella fascia di fisico di potenza di tecnica Zaniolo a vederlo giocare sta bene quello che gli manca è veramente l'ultima giocata il cross l'assist il tiro gli manca quello perché fisicamente Zaniolo sta bene e ha un modo di giocare cioè con questi strappi con queste percussioni di potenza che fanno intendere che lui si sente anche tranquillo perché con i problemi fisici che ha avuto tentare queste giocate vuol dire essere essere consapevoli della propria del proprio stato di salute ottimale quindi è un giocatore comunque ritrovato che però deve ritrovare la concretezza davanti che lo ha reso uno dei migliori giocatori in Italia in quel ruolo subentrati allora Fena Gyan non l'avevo mai visto non è male è molto acervo si vede che è un giocatore insomma che deve fare esperienza però è un giocatore che ha dato fastidio al Milan sicuramente è stato più utile rispetto a Mkhitaryan e Abraham ecco ha avuto un impatto molto più positivo e Sharawi allora secondo me Sharawi non è entrato bene in partita anzi è entrato male però ha trovato il gol che ha un po' riacceso le speranze se ci fosse stato il calcio di rigore per la Roma cioè se l'arbitro avesse fischiato il calcio di rigore per la Roma che per me ci stava visto il rigore dato al Milan e avesse pareggiato e Sharawi comunque avrebbe aperto la rimonta sopra il novantesimo quindi gli do 6 più per il gol Carles Perez gli ho dato 6 meno perché anche lui non è entrato bene però è andato vicino al gol con un bel tiro a giro su questo to plastico Tatarusano voti del Milan Tatarusano 6 e mezzo perché appunto bravo anche se non è una parata assolutamente difficile su Carles Perez molto bravo sul tiro da fuori aria di Mancini che sembra facile da parare perché dice ma gli ha tirato addosso gli ha tirato addosso perché Tatarusano era lì perché dal replay dietro la porta si vede che Tatarusano intuisce il pericolo in quella zona di campo e fa due tre passi sulla destra per avvicinarsi alla zona dove Mancini avrebbe tirato quindi grande senso la posizione portiera del rumeno 6 e mezzo peggiore in campo del Milan Tevernandez che non ha giocato male cioè la cavalcata che porta all'assist per Ibrahimovic che poi si procura il rigore è spettacolare la classica giocata da Tevernandez la lotta con Zagnolo è entusiasmante sia per Zagnolo che per Tevernandez hanno fatto una bella partita entrambi sotto quel punto di vista l'espulsione però è ingenua cioè lì veramente non c'era bisogno di tuffarsi a pesce e fermare Pellegrini secondo me si poteva intervenire in maniera pulita 5 e mezzo a Tevernandez che col 5 e mezzo è il peggiore in campo del Milan mi è piaciuto Calabria dall'altra parte che ha fatto una partita generosa come sul solito utile davanti attento dietro 6 più Tomori secondo me partita normale ecco la classica partita normale di Tomori gli ho dato 6 più perché è stato completamente oscurato dalla prestazione di Kier e ha fatto una partita impressionante impressionante come posizione come interventi anticipi su un rilancio sbagliato di Tatarusano ha recuperato 5 metri a Pellegrini in 3 secondi quindi sta anche bene fisicamente l'unico neo della partita di Kier è quell'intervento sullo stesso Pellegrini al 93esimo che avrebbe potuto procurare il calcio di rigore però è così come non ho penalizzato i bagnese perché secondo me quello non è il rigore siccome secondo me non è il rigore nemmeno quello per la Roma non ho penalizzato nemmeno Kier quindi gli ho dato 7 e per me è stato il migliore in campo del Milan andiamo al centrocampo allora Benasser insomma Benasser non mi è piaciuto molto regia ai minimi termini pochi recuperi palla quindi 6 meno non mi è piaciuto nemmeno Cassi vi dico la verità ha battuto il rigore con grande freddezza del 2 a 0 quindi l'ho un po' alzato però secondo me ha fatto una partita neanche sufficiente anche lui secondo me ha fatto una partita a 6 meno come Benasser però per il rigore l'ho alzato a 6 più non mi è piaciuto nemmeno Cellmakers che non ha dato il suo solito contributo tattico alla squadra e a Calabria in particolare quindi gli ho dato 6 meno mi è piaciuto invece tantissimo Leao Leao ha fatto una partita eccezionale aveva fatto un gol clamoroso con quel pallonetto e poi successivo colpo di testa annullato per fuorigioco iniziale di Ibrahimovic però veramente Leao è in una condizione psicofisica clamorosa è un giocatore devastante su quella fascia 6 e mezzo per Leao mi è piaciuto anche Krunic mi dico la verità a me Krunic è un giocatore sempre piaciuto fin dai tempi dell'Empoli dove giocava a mezzala nel 4-3-1-2 di Andrea Zoli a me sinceramente questo giocatore piace magari non è un trequartista se lo si confronta con Brian Diaz è un altro modo proprio di interpretare il ruolo perché Brian Diaz è un trequartista che noi ci hanno adattato però a me piace è un giocatore che abbina quantità e qualità in maniera equilibrata è un giocatore che secondo me nel Milan come riserva va benissimo gli ho dato 6 più Ibrahimovic gli ho dato 7 come a come a Kier però per me Kier è stato più decisivo perché la punizione che sblocca il risultato è una bella bordata però ripeto ci sono delle colpe evidenti del portiere su quella punizione si fa trovare due volte in fuorigioco quindi due gol annullati al Milan perché è un po' statico il rigore conquistato ripeto per me non c'è quindi non gli do punto in più per il rigore conquistato perché secondo me si fa rimontare da Bagnez che gli leva palla pulita è un po' fuori forma io andrò controcorrente Ibrahimovic è stato esaltato da tutti i giornali a tutti il dominante e tutto il resto secondo me è un po' fuori forma è un po' statico c'è stato anche un paio di situazioni dove si è fermato con la palla al piede voleva fare qualcosa e invece gli hanno soffiato gli hanno strappato palla dai piedi sembrava un bambino insomma non mi è piaciuto Ibrahimovic ieri nella prestazione poi è indubbio che si è entrato in maniera prepotente nella vittoria perché ha fatto il gol e ha conquistato il rigore quindi gli do comunque 7 però non mi è piaciuto e subentrati allora Balloturet secondo me non è entrato bene ha perso anche un paio di palloni ecco Balloturet tecnicamente è proprio scarso cioè proprio non sa controllare il pallone più di una volta l'ho visto che proprio sbaglia quando corre con la palla al piede se la allunga se la sposta storta cioè c'è proprio carenza tecnica sotto questo punto di vista gli altri subentrati tutti 6 quindi Giroud Romagnoli Baccaio Coettonali tutte sufficienze Romagnoli è vero che fa la respinta corta che porta il gol di Esceravi ma è anche vero che è da lì che deve fare al massimo può respingerla lateralmente però insomma lì anche Esceravi trova un angolo incredibile quindi ci sono più meriti di Esceravi che dei meriti di Romagnoli quindi 6 a tutti i subentrati queste sono le mie pagelle di Roma Milan ci vediamo al prossimo video che registrerò penso stasera o forse domani mattina post partita della partita del posticipo del lunedì sera Bologna Cagliari ciao a tutti